Buon pomeriggio a tutti amici a presto di sport, ben ritrovati su Moldorino Sport Channel, io sono Alessandro e vi do il benvenuto in questo primo video di una mini serie diciamo di tre video che uscirà tra oggi e i prossimi due o tre giorni riguardanti il ciclomercato dunque tutte quelle notizie riguardanti i trasferimenti che sono usciti nelle ultime settimane o negli ultimi mesi partiamo subito con questo video in cui vi parlerò dei trasferimenti già ufficializzati sia per quanto riguarda il rientro alle corse post covid della stagione 2020 quindi corridori che militeranno nelle proprie squadre già a partire da un mesetto a questa parte in quanto fra circa un mesetto inizierà il Sibiu Cycling Tour, corsa rumena di categoria 2.1 in cui correranno anche due formazioni world tour ovvero la Bora Ansgore e la Israel Startup Nation partiamo subito con il world tour con Peter Venning Peter Venning corridore olandese molto esperto di 38 anni vincitore del Giro di Polonia 2013 e di tre tappe nei grandi giri due tappe al Giro d'Italia e una tappa al Tour de France corridore polivalente che ha come specialità appunto le fughe dotato di ottime doti in salita ma anche in pianura con delle discrete capacità anche sul pavé porterà una grande esperienza alla squadra appunto Trex e Gaffredo di Vincenzo Nibali e molto probabilmente sarà addirittura inserito nel roster per il Giro d'Italia in supporto appunto dello squadro dello stretto per quanto riguarda invece le professional passiamo in Italia con Riccardo Stacchiotti vincitore di tappa al Giro di Sicilia 2019 che militerà nella professional italiana della Vini Zabu KTM Per quanto riguarda invece la Francia nella Nippo Delco One Provence arriverà il 21enne britannico Simon Carr corridore con discrete qualità in collina Per quanto riguarda invece le Continental il 44enne francese Miguel Martinez francese nonostante il nome quindi molto probabilmente di origine spagnola campione del mondo e campione olimpico nel 2000 a Sydney per quanto riguarda la mountain bike che dopo bene 12 anni dall'ultima stagione corsa su strada ritornerà a correre appunto su strada con l'amore vita Prodir formazione Italo-Lettone che l'ha visto appunto militare nelle proprie fila nel 2008 nella sua ultima stagione su strada questi erano i quattro trasferimenti che sono già stati ufficializzati per questo rientro alle corse per quanto riguarda invece la prossima stagione quindi il 2021 abbiamo le notizie riguardanti bene tre classe 2002 quindi me e coitanei partiamo subito dal più importante dal nome più famoso ovvero quello di Marco Brenner Marco Brenner un grandissimo fenomeno della categoria junior dotato veramente di ottime doti ovunque in salita, in collina, a cronometro persino sul pavé con persino degli ottimi risultati nel ciclo cross veramente un corridore molto molto forte vincitori di ben 23 corse nel 2019 da primo anno junior tra cui il prestigioso Tour de Paix de Vaud in Svizzera Coppa del Mondo junior e terzo anche ai mondiali junior nella categoria appunto nella specialità del cronometro individuale Marco Brenner, tedesco, firmerà un contratto con una squadra del proprio paese ovvero con il Team Sunweb e dunque militerà per ben quattro anni nel World Tour con la formazione tedesca per quanto riguarda invece gli Stati Uniti passiamo con Matthews Recitello Recitello, anche lui classe 2002 di origine italiana che ricordo fare veramente un grandissimo lavoro in supporto a Queen Simmons negli scorsi mondiali in linea Under 23 nello Yorkshire Queen Simmons che poi vincerà la prova e firmerà per ben tre anni, se non sbaglio, con la Trex Gaffredo infatti quest'anno sta già militando nel World Tour con la Trex Gaffredo Matthew Recitello che militerà a partire dall'anno prossimo per due anni nella formazione del figlio di Eddie Merckx ovvero Axel Merckx nella Huggins-Berman-Axion squadra molto buona per la crescita dei corridori Junior e Under 23 Passiamo invece all'ultimo corridore 2002 ovvero lo spagnolo Juan Ayuso corridore che sinceramente non conoscevo campione Junior spagnolo nello scorso anno che firma per ben cinque anni con la formazione World Tour UAE Team Emirates seppur dal primo anno sembrerebbe che militerà nel vivaio della squadra appunto nella UAE Under 23 che si trova in Colombia Ultimo trasferimento che è stato ufficializzato è quello del francese Alexandre De Lettre 22enne, corridore molto giovane che ha ottenuto degli ottimi risultati tra cui il quarto posto alla Poly Normand 2019 che firma un contratto di due anni con la formazione francese della Nippo Delco One Provence che appunto ha già ufficializzato l'arrivo per il 2020 del britannico Simon Carr Comunque ragazzi direi che per questo video è tutto vi invito a cercare un commento mi piace iscrivervi seguirci anche sulla nostra pagina Instagram e mi raccomando guardate i video che usciranno nei prossimi giorni riguardanti i rumors appunto di ciclo a mercato per la stagione 2021 per la stagione 2021 Grazie.